Prosegue l'incubo traffico sulla 9 dopo un weekend da dimenticare sull'autostrada in direzione svizzera. Anche l'inizio della settimana è stato complicato, con veicoli a passo Duomo tra Como Centro e Como Monte Olimpino e traffico in tilta anche sulla viabilità ordinaria. Sono molti infatti gli automobilisti che cercano di bypassare il cantiere, andando ad incolonnarsi lungo le principali arterie cittadine. Questa mattina forti rallentamenti si sono verificati su Viale Innocenzo e le vie limitrofe. La situazione difficilmente migliorerà nei prossimi giorni. Si aggiungono infatti delle chiusure notturne dalle 22 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 settembre e negli estessi orari le notti di sabato 30 settembre e di domenica 1 ottobre sarà infatti chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso il confine Italo-Svizzero. Tutti i veicoli dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro dovranno percorrere la viabilità ordinaria, quindi via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, via L'Innocenzo XI, via Borgovico e via Bellinzona fino a raggiungere la dogana cittadina. Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 e tangenziale di Como verso la Inate. In questo caso, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, i veicoli leggeri dovranno utilizzare il ramo maslianico Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgovico, via Lemasia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Paoli e poi la provinciale 35 per rientrare sulla 9 a Fino Mornasco.